Mi chiamo Giovanni, sono il nuovo gruista, vengo dall'Italia, vabbè ma è tanto diverso dall'Italia sta Polonia. Rita ho fatto 5 minuti a piedi, non è che ho visto tutta la Polonia, dai. Domani ti chiamo e cuciniamo insieme al telefono, dai che cosa ci vuole a fare un piatto di spaghetti? Cosa vogliono da noi questi qua, chi li conosce? Vanno matti per voi due, vogliono altri video, altre ricette che la mamma ti insegna. Che poi fare questi video assieme mi piace davvero tanto sai, ti sento come se fossi dall'altra parte del muro, altro che in Polonia. Quella che l'intervista è andata benissimo, ne stanno parlando tutti anche i giornali. La gente ci ama Giovanni. La gente ama te casomai, per me ci sono solo odio e insulti. Abbiamo due personaggi seguitissimi, Rita e Giovanni di Internet. Secondo me è una perdita di tempo, però va bene, cosa vi devo dire, facciamo questo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti